Non concederò a nessuno la possibilità di pensare diversamente da quelle che sono, che è l'obiettivo di fare sei partite al massimo, a prescindere da quello che riusciremo a raggiungere, perché poi di matematica non c'è niente, né verso il basso né verso l'alto, quindi non concederò niente a nessuno se non dare il massimo in queste sei partite. Quindi se qualcuno nella propria testa avrà avuto il pensiero di mollare, tanto uno se ne accorge e farò altre scelte. Però per quello che ho visto in questi giorni no, la sconfitta non è figlia della sfortuna, questa volta a scanso proprio di qualsiasi equivoco sono categorico in questo. Abbiamo perso per errore nostro, nell'azione del gol ci sono stati quattro errori nella stessa azione e abbiamo preso un gol in una situazione su cui noi lavoriamo dall'inizio, quindi mi sono incazzato molto perché non esiste subire un gol del genere. Perché poi nel turno infrasettimanale quando va in vantaggio poi diventa complicato recuperare perché si è costretto a fare sempre la partita e le fatiche dei due giorni prima si fanno sentire. Pescara è cambiato per filosofia di gioco ma le caratteristiche sono quelle, nel senso che hanno giocatori abili nell'uno contro uno, sono giocatori che amano il possesso palla e poi è vero che conoscendo Pillon che ho avuto da allenatore la richiesta è sicuramente diversa rispetto a quella di Zeeman, però poi le caratteristiche dei giocatori rimangono quelle, quindi noi dobbiamo stare molto attenti perché è una squadra che ama il palleggio, che ha sugli esterni come riferimento un attaccante che è ritornato al gol dopo tanto tempo e in questo senso dobbiamo essere attenti a capire quelle che sono le loro caratteristiche, non possiamo più fare errori sbagliando quello che è l'interpretazione del momento e martedì è successo questo.